buongiorno da agnese fedeli al microfono questa mattina per la rassegna stampa delle prime pagine dei quotidiani locali cominciamo da repubblica firenze l'apertura è sulla mobilità dalle cure a careggi la trappola degli ingorghi i vigili non ci sono esplode la rabbia sui social due ore per fare campo di marte sesto l'assessore se ci sono tanti incidenti assorbono il lavoro della municipale di spalla la vertenza gkn tre interessati a comprare la fabbrica gli operai non ci credono l'azienda chiede quindi di aprire la trattativa per la cassa integrazione la rsu rischio raggiro e ancora il commento di carlo sorrentino cosa serve agli studenti prima di una stanza d'hotel ancora lanci di apertura l'emergenza coronavirus stamponi nelle scuole partono i primi 500 qr code e i invece un'iniziativa di palazzo vecchio si votano online le aree incolte da far rinascere in taglio basso la cultura al teatro niccolini nani e gli esercizi in una lettera invento sul palco come nel jazz da stasera spettacolo di paolo nani e infine la fiorentina saponara c'è il passato allo specchio la nazione firenze anche in questo caso l'apertura sulla mobilità traffico incubo campo di marte cantieri delle ferrovie con chiusura del ponte del pino e la fiorentina al franchi rischio collasso sabato e domenica da oggi intanto niente più lavori sulla uno torna a respirare la tratta da firenze sud a scandici la foto notizia centrale vertenza gkn spuntano tre manifestazioni di interesse per l'azienda ma gli operai non ci credono il rischio di raggiro è altissimo la foto notizia si intitola la speranza e la rabbia di spalla università in rivolta occupato il polo studenti furiosi restituiteci i nostri spazi e ancora la grafica dedicata alla situazione della pandemia in toscana con 372 nuovi positivi e 11 ultimi decessi registrati taglio basso calcio e maratona lab del mandela modifica gli orari la campagna vaccinale nei prossimi weekend cambiano accessi e prenotazioni la ausl toscana centro sospende altri 18 sanitari siamo la prima pagina della nazione edizione di empoli ponte d'era l'apertura riguarda la mobilità in questo caso la 429 veleni sulla 429 faremo la bonifica la promessa di giani ai residenti comprendo le forti preoccupazioni ma tempi e dettagli sono un rebus la foto notizia centrale travolta sulle strisce grave una ragazza di 19 anni investita da un furgone vari box e empoli ladro scappa ma perde i soldi subito acciuffato dalla polizia castel fiorentino si accendono le magie di natale attrazioni per tutte le età e ancora ponte d'era il lotti ora respira il primario tutto merito dei vaccini segnalate inoltre sei pagine di offerte lavoro per chi cerca occupazione e ancora in taglio basso vinci cittadini in rivolta contro l'antenna petizione online e fucecchio lotta costante alla violenza sulle donne siamo al corriere fiorentino la toscana all'apertura parte l'offensiva contro i novax il sindaco biffoni proporrò le limitazioni al direttivo anci per arrivare fino al governo ieri il picco dei decessi da giugno 11 in 24 ore allerta sulle terapie intensive il primario al 90 per cento non sono immunizzati in taglio alto dopo il forum con il sindaco nardella l'attesa dei residenti i dubbi dei locali prove di dialogo su movida il tavolino ne leggiamo l'attacco apprezziamo la disponibilità del sindaco adesso attendiamo l'incontro con lui con il prefetto e con il questore il coordinamento dei comitati del centro storico risponde così all'invito lanciato da nardella durante il forum al corriere fiorentino il nostro maggior intento è quello di recuperare quella convivenza civile che da troppo tempo è venuta meno ribadiscono i residenti il sindaco ha ribadito lo stop alla gratuità e una maggiore attenzione all'estetica trovando aperture e dubbi da parte delle due principali associazioni di categoria confesercenti e confcommercio conciliare i vari bisogni il commento è a firma di franco camarlinghi lo strano derby del pd tra leopolda e conte la foto notizia centrale ancora mobilità com'è difficile uscire dalla stazione e fioccano le multe il laberinto segnali confusi e poco visibili tanti finiscono sulla corsia taxi e ancora vari rimandi girone pronto soccorso il racconto di un medico il giorno della protesta nazionale e ancora lo sport calcio giovanile nuova bufera fiesole rondinella lo scontro è riaperto in taglio basso il lavoro l'annuncio tre proposte per la gkn l'azienda arrivati i piani di reindustrializzazione i lavoratori rischio raggiro infine la protesta gli universitari occupano il polo di sesto siamo isolati e senza servizi e per chiudere lettera al sindaco festival delle donne cancellato von trotta ma perché prima di per la prima pagina del tirreno edizione pistoia montecatini empoli prato la pagina dedicata ad empoli gravissima 19enne investita da un furgone era scesa dall'autobus per andare al lavoro la ragazza è ricoverata in terapia intensiva a careggi a vinci dove abita tutto il paese trattiene il fiato per lei l'incidente è avvenuto sulla toscoro magnola era l'ultima notizia per oggi vi rimando ai nostri servizi online in questi giorni sono usciti il tutorial dedicato alle dotazioni invernali altri servizi dedicati al territorio monterupo e fiesole quest'oggi è previsto un servizio d'approfondimento sull'ultimo consiglio metropolitano che si è svolto su un treno lungo la linea faentina da agnase fedeli è tutto buon proseguimento di giornata